Sì, ci stiamo preparando per questa festa, la tredicesima del nostro gruppo, che è nato nel 2011, sempre attivo, sempre molto presente in tante iniziative che facciamo e cerchiamo sempre di dare il meglio e non far mancare mai il nostro supporto ai centri trasfusionali. La Fratres di Ponticino, paese alle porte di Arezzo, si sta preparando alla giornata del donatore. Si ritroveranno domenica 6 ottobre una data importante per questa sezione a retina della Fratres che conta oltre 800 iscritti. Il 6 ottobre è una data importantissima perché dopo tanti anni siamo riusciti a reintitolare il nostro gruppo Fratres Ponticino a Don Luigi Granelli che insieme al mio carissimo amico Borri Massimo sono stati i promotori e i fondatori di questo gruppo. A questa giornata ci saranno le autorità locali, tutti i vostri soci, tutti i vostri donatori, ma ci sarà anche una presenza che vi è stata confermata proprio nelle scorse ore. Ci sarà il professor Vincenzo Manzo che è il presidente nazionale Fratres, ci sarà il presidente regionale Dottor Giuseppe Di Pietro, Pietro Ganganelli che è il presidente territoriale di Arezzo. Insomma diciamo che abbiamo messo insieme una bella festa proprio per dare ancora più valore a questa nostra iniziativa. Non solo donazione di sangue, la Fratres è attiva anche nel sociale e nella raccolta di appelli come quello di Marco Cerofolini. Per questo il gruppo punta adesso ad incrementare i suoi soci e donatori ricordando che la donazione è un atto di amore verso gli altri ma anche verso se stessi. La donazione è importantissima perché viene fatto uno screening, degli esami particolari quando uno inizia a donare, di conseguenza a ogni donazione viene controllato e quindi se ci sono dei piccoli cambiamenti vengono segnalati e possiamo intervenire in tempo utile per risolvere magari come è successo in tanti casi tantissimi problemi prima che diventano veramente più gravi. Questo settembre che doveva essere un mese molto buono per ricompensare l'estate e invece devo dire che non va molto bene. Quindi io inviterei tutti i nostri donatori, i nuovi che si vogliono iscrivere, le persone che si vogliono avvicinare alla donazione di chiamare i nostri numeri, chiamare la Fratres provinciale che mette in contatto quelle territoriali dove ogni gruppo può fare capo. Allora puntiamo ai mille. Puntiamo ai mille assolutamente, questo è il nostro scopo da tanti anni, speriamo di arrivarci e noi ce la mettiamo tutta.